Questo torneo secondo me non sta andando male, le prime partite sono andate benissimo, però quelle che abbiamo fatto recentemente sono andate meglio. Come siete andati fino adesso? Bene! Ti sta piacendo questo torneo? Sì! Mi sono divertito molto nella prima partita, sono felice di aver vinto, però mi dispiace anche per la squadra che ha perso, che comunque si è impegnata molto. Per me questo torneo mi sta piacendo e voglio arrivare in finale. Don't worry about the things, don't worry about the things, I know it'll be alright. Don't worry about the things, don't worry about the things, don't worry about the things. Come on! Don't worry about the things, don't worry about the things, don't worry about the things. Let's get down the finish, show me what you got, just keep the record spinning, the music never stops. You wanna live forever, you wanna live forever, and reach about the stars, let's take it to the next level, just light the spaceship up. And bright, big lights are shining on us, that beat is so tight, it makes you want to get up, get down, like there's no tomorrow. Come on! Come on! Bene, bene, ci siamo divertiti anche in albergo. e ora puntiamo alla finale, che dire. È stata una partita combattuta sin dal primo minuto, dopo la rete dell'1-0 però abbiamo mollato un pochettino. L'importante è che alla fine della partita siamo riusciti a riprendere la gara in mano e l'abbiamo fatto al meglio, portandoci a casa almeno un punto che, come ha detto prima, dà morale. La prima partita che abbiamo fatto giusto ieri è stata una bella partita, l'abbiamo dominata, però abbiamo giocato sempre bene e ci siamo rispettati tra di noi. Invece quest'altra partita che abbiamo fatto oggi è stata molto combattuta sin dal primo tempo, però non abbiamo dato il massimo e ci siamo fatti raggiungere e pareggiare. Vi siete divertiti? Sì, sì. E' un'hotel? Bello, sì. Quest'altro bambino qui, con la maglia del Frosinone Calcio, queste sono tutte le autografie dei giocatori del Frosinone. Qual è il giocatore che ti piace di più? Daniel Giovanni. Basta che ci divertiamo, non importa chi vede o chi vinte, basta che giochiamo bene e facciamo un po' di gol. Come sta andando questo tornello? È bene. Stai giocando? Sì. Quindi volete arrivare dove? A fare la finale? Sì. Sì. Sì, tutto molto bello. Onestamente è una bella occasione per stare insieme alla famiglia e per far giocare anche i bambini che non partecipano all'occasione sportiva molto molto bella. Per me è la prima volta che mi trovo in una situazione del genere. Comunque è una bella manifestazione, i ragazzi li vedo molto volenterosi in campo, danno il massimo del massimo. Tutta una bella manifestazione, bella veramente. Grazie. Grazie. Grazie.